L'alta formazione, la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico sono risorse ed opportunità che l'Abruzzo non può permettersi ancora a lungo di sfuggire. Lo sottolinea il gruppo regionale del PD che sta procedendo alla stesura di una proposta di legge organica, così come è avvenuto da anni in altre regioni, confrontandosi anche in una concertazione con le parti sociali, invitate stamani ad un incontro per focalizzarne le strategie portanti. Noi abbiamo voluto proporre alle parti sociali e alle università, al sistema che può lavorare all'innovazione Abruzzo, un primo testo che volevamo valorizzare con una procedura di concertazione, quindi migliorandolo via via. Questa norma è un punto di proposta essenziale perché c'è un ritardo in regione, per cui il sistema produttivo è completamente svingolato e sregolato rispetto a processi di innovazione. Come ben sappiamo non si è competitivi se non si innova costantemente. Generare un sistema è appunto un guardare alla strategia futura. In Abruzzo le iniziative per legare l'alta formazione e la ricerca, le strategie di sviluppo, sono state finora frutto di singole realtà, come l'Università dell'Aquila con gli spin-off. Quello che è necessario, sottolinea il PD, è un quadro generale programmatorio. Ci sono delle esperienze ma non c'è un fattore a sistema, è ciò che noi proponiamo, cioè la conferenza regionale per l'innovazione mette insieme tutti i soggetti di ricerca e di produzione che possono determinare a valore strategico il trasferimento dalla ricerca e quindi dall'Università verso il sistema produttivo. La Regione e gli organi pubblici di governo coordinano questo, ma è quello che serve la stabilità e la costanza della produzione di innovazione, in modo che il sistema produttivo se ne avvalga e diventi sempre più competitivo.